A distanza di quasi quattro anni dal suo addio alla politica attiva, l'ex sindaco di Arco, Paolo Mattei, rompe un lungo silenzio per entrare in tema di grande attualità, il destino del cantiere per la realizzazione del nuovo teatro all'ex Quisisana. «Sono rimasto stupito dal cambio di opinione dell'onorevole Mauro Ottobre, che ha deciso di affossare l'idea del teatro», commenta Mattei. «Sto volutamente alla larga da sospetti di retropensieri politici, ma mi auguro che tutto questo non contamini un progetto di straordinaria bellezza architettonica di un professionista di prestigio come l'architetto Alberto Cecchetto». E aggiunge, «Come si può immaginare che un evento come il fallimento dell'impresa costruttrice possa di colpo cambiare la valenza strategica di un elemento culturale, sociale ed intrattenimento, qual è l'auditorium teatro di Arco? La struttura, così come pensate da giornata, con il contributo della provincia di 1,4 milioni di euro, disporrebbe di 450 posti a sedere e potrebbe ospitare manifestazioni diverse, come cinema, concerti, rappresentazioni teatrali, culturali, dibattiti e conferenze. Le opere di fondazione sono state realizzate oltre sei anni fa, per un valore di circa un milione di euro, e ora l'opera è incompiuta. «Le risorse non abbondano più e non esiste un pozzo senza fine in Piazza Dante a Trento», prosegue l'ex sindaco. Non c'è dubbio che il costo degli investimenti sia una voce di bilancio da ponderare attentamente, ma molto più pericoloso è il generare nuovi centri di spesa corrente. Grazie. Grazie. Grazie.